Facciamo i ventaglietti di sfoglia, chiamati anche palmier, molto semplici per cui non andate a comprare, fateli a casa che vengono più buoni. Abbiamo della pasta sfoglia e dello zucchero, non serve altro. Prima distribuiamo lo zucchero sul nostro piano di lavoro, abbondante. Srotoliamo la pasta sfoglia e la rovesciamo sullo zucchero. Rimuoviamo il foglio di carta forno. Distribuiamo altro zucchero anche sopra. Questo zucchero poi in cottura si caramellizzerà e creerà quella crosticina tanto buona. Allora, ora individuate il centro della vostra striscia di pasta sfoglia, circa qui. Iniziate ad arrotolarla nel modo più stretto possibile fino ad arrivare al centro. dopodiché partite dall'altra parte. In questo modo i due rotolini avranno circa lo stesso diametro. Rimuovete le eccedenze, in questo modo, e premete bene i due rotoli l'uno sull'altro. Ora prendiamo un pezzo di carta forno, mettiamo i rotolini nella carta forno, li chiudiamo ben stretti, a pacchettino, e li mettiamo in congelatore. Io ne ho di già pronti che avevo messo in frigorifero perché erano già congelati. Ecco il mio rotolo già pronto. Vedete? Ora bisogna semplicemente affettarlo. Il fatto che sia congelato ci aiuta nell'affettare i nostri ventagli nel modo più preciso possibile. Anche se ora la forma sembra un po' irregolare, vedrete che poi in cottura allargandosi la pasta sfoglia creerà questi bei cuori caramellati. Ora io direi di prendere intanto una teglia, così iniziamo ad appoggiarci lì dentro. Un bel foglio di carta forno. Distanziateli un po' perché, come vi dicevo prima, in cottura si allargheranno. Io ne cuocio una teglia, voi poi cuoceteli tutti, tanto non avanzeranno di sicuro. In forno, 200 gradi, 20-25 minuti. Sono passati circa 20 minuti. Andiamo a vedere se i nostri ventagli sono pronti. Sì, direi che la doratura è perfetta. Prendo il nostro finaccio per toglierla dal forno. I nostri ventaglietti sono pronti. Prendiamo un vassoino. Sì, questo mi piace. Questi li mettiamo tutti per bene, così. Hanno quasi la forma di un cuore, quindi sono perfetti anche per una festa di San Valentino, per un anniversario. E questi qua sono per me. Buonissimi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.